Sarno Sicuramente non l'abbiamo convinto abbiamo fatto un primo tempo non come volevo io un secondo tempo un po' meglio però sicuramente per fare una grande partita ci vogliono due squadre che si affrontano a viso aperto noi oggi abbiamo fatto qualche qualche errore in più campo duro, la palla rimbalzava e non riuscivamo a controllarla molto bene però sono contento di questi tre punti perché adesso ci aspetta sabato prossimo la parete con il Sorrento che sicuramente bisogna fare una prestazione migliore di questa e chiudere con il discorso salvezza e pensare a qualcosa di meglio Ecco lei diceva un primo tempo non all'altezza, cos'è che è mancato? No, non siamo riusciti a trovare le distanze giuste la palla non si metteva mai a terra eravamo sempre distanti tra di noi e abbiamo fatto due gol sì però non siamo stati bravi con quei reparti a lavorare insieme moltissime volte si saliva a palla scoperta tutto questo non si deve fare e abbiamo fatto questi errori che non mi sono piaciuti però vincevamo 2 a 0 e magari qualcuno si poteva rilassare ma secondo tempo la squadra è migliorata nettamente abbiamo dominato e abbiamo rischiato poco Ecco quali sono invece le chiavi insomma di questa vittoria i punti positivi che portiamo a casa? Ma noi tutte le vittorie in questo camminato lo dico dall'inizio sono tutte uguali sono tutte partite che devi dare tutto devi fare una grande prestazione e poi vedere quello che prendi ma oggi sicuramente era più pericolo eravamo noi eravamo noi contro di noi perché giocare contro una squadra è già retrocessa magari con la testa qualcuno poteva pensare è tutto facile ma al primo tempo vincevamo 2 a 0 ma non è stato così facile però secondo me abbiamo gestito bene la gara abbiamo dominato e a tratti siamo divertiti abbiamo fatto giocare un locale della Juniors che si vede che anche il settore giovane nostro sta crescendo e stiamo inserendo qualche ragazzo giovane in prima squadra e questo può essere una nota positiva di questa giornata grazie grazie